ciao loris allora oggi super giù vedrà quale magia niente non vedrà niente ci sono delle carte come puoi vedere tutte carte diverse a favore di telecamera ok da quest'altro lato sono carte tutte di dorso blu come mi piace il blu ok ma c'ho una carta rossa solo una carta rossa la vedi sì ok vedete sì posso ritirare la vedono la vedono la vedono ok io adesso mescolo in modo che disperdo la carta rossa nel marzo e adesso tu mi devi indicare una carta quale vuoi questa 5 di cuori sì ok prendi prendi allora attenzione tu hai scelto liberamente giusto sì ti ho detto che c'era solo una carta rossa sì hai visto solo il dorso dunque non puoi sapere qual è la carta giusto ok hai scelto il 5 di cuori vuoi girarla non solo hai beccato la carta rossa mi avevo fatto pure una x perché ero sicuro che tu avresti scelto la carta da me prescelta che gioco di parole su per giù x su per giù questa è la per giù senza parole su per giù